I commercianti di Vallefoglia si sono riuniti questa mattina qua al centro commerciale Le Cento Vettrine assieme alla consigliera regionale Michela Vitri, a quale ha partecipato poi anche il sindaco di Vallefoglia Palmiro Cchielli perché le ultime normative, gli ultimi dpcm, le passagge da zona zalla a zona arancione ha costretto le attività denominate appunto centri commerciali qua a Vallefoglia a rimanere chiusi nel weekend i 15 giorni di sabato e domenica. Una chiusura appunto per la denominazione centro commerciale nonostante le attività come appunto questa qua alle mie spalle dove vedete anche i commercianti sono completamente aperte, entrambe con una propria entrata ed una propria uscita Un incubo nell'incubo. Noi abbiamo avuto la notizia il venerdì sera, dieci giorni fa mi sembra e il giorno dopo abbiamo dovuto tenere le serrande chiuse cioè un negozio come il mio che ha fattura tutto e punta molto sul Natale lavoriamo un anno intero per il Natale, avere una chiusura del genere, creare concorrenza sleale perché i nostri clienti a questo punto vengono spinti ovviamente perché devono comunque comprare hanno il tempo solo il sabato e la domenica, lavoriamo tutti e di conseguenza diventa una perdita per me, una perdita di clientela e una perdita economica di incasso al momento, in quel momento Siamo sempre più fiduciosi che si possa risolvere Ho organizzato apposta questo incontro chiamando tutti e quattro i centri commerciali che sono stati penalizzati Noi possiamo lavorare da sport, ci siamo fatti in quattro per inventarci sempre ogni weekend cose nuove, un aperitivo a tema o via dicendo ma facciamo quello che possiamo fare al massimo più di così non si può fare se facciamo fatica Qua c'è un caso direi anomalo rispetto a tutto il resto del territorio regionale a Vallefoglia abbiamo sei centri commerciali molto simili tra loro di questi quattro devono rimanere chiusi per le norme previste dal DPCM perché considerati centri commerciali, ovvero le attività, quasi 100 attività di genere diverso rimangono chiuse il sabato e la domenica perché hanno la licenza da centro commerciale mentre gli altri due possono lavorare ed essere aperti regolarmente a prescindere appunto dal genere Il problema è che ancora ad oggi in regione non è stata fatta una modifica alla normativa regionale per cui non vengono distinti parchi e centri commerciali è indispensabile invece fare questo distingo e fare in modo che chi si trova non in una galleria chiusa come possono essere i perossini o i percop ma in un parco commerciale in cui i negozi hanno l'ingresso all'aperto indipendente e quindi sono equiparabili a quelli di un centro storico, di una piazza, possano lavorare Ora in regione dopo 15 giorni non avendo avuto ancora una risposta chiara dal ministero farò in modo che sia lo stesso assessore regionale alle attività produttive, Mirko Carloni e quindi anche tutto il Consiglio ad impegnarsi a capire questa problematica e a fare in modo che al più presto si possa avere una distinzione chiara tra centri commerciali e parchi commerciali e che non dipenda da una semplice licenza quindi da una distinzione amministrativa, burocratica Questi nostri quattro centri commerciali sono quattro centri commerciali aperti quindi non hanno un problema di assembramento quindi o il Consiglio regionale modifica e interpreta la norma che i centri commerciali aperti come i nostri possono essere aperti il sabato e la domenica mentre i centri commerciali chiusi è giusto che siano chiudi perché creano assembramento oppure modifica la norma nazionale io adesso chiamerò anche i quattro proprietari dei centri commerciali che hanno chiesto di avere approvate le licenze come centro commerciale se si può modificare anche la presentazione sotto forma di centri commerciali quindi stiamo cercando di far di tutto e di più per dare una mano ai commercianti a risolvere questo problema